Contratti e preventivi. Quando si fa un contratto, solitamente i contratti si fanno per salvaguardarsi. Non sempre sono utili perché io vi posso dire che nella mia esperienza, praticamente chi mi ha commissionato il lavoro voleva assolutamente fare un contratto, voleva assolutamente firmare le NDA, firmare una marea di roba. L'abbiamo fatto tutto come voleva lui, il risultato è stato che lui mi deve ancora dare 1500 euro di arretrati da 4 anni, che io non vedrò mai. Non vedrò mai perché mentre lui ha chiuso società, l'ha venduta all'estero, quindi per lo Stato italiano, lui che non ha una società, non è nulla tenente perché non ha nulla, ha tutto intestato a un'altra persona, io non posso richiedere a lui dei soldi. Intanto questa persona è titolare di questa società con sede all'estero tramite un prestanome, però io non lo posso dimostrare e quindi non potendolo dimostrare non posso fargli causa. E in più se ne faccio causa succede che in Italia spesso si va a 10 anni, se va bene, si arriva magari a 10 anni di spese legali e quei 1500 euro di spese legali diventano 4000 euro. E quindi io mi sono logorato il fegato per nulla. Questo però mi ha insegnato che innanzitutto delle persone bisogna fidarsi il giusto in alcuni casi e dall'altra parte mi ha insegnato che spesso anche un contratto firmato può valere quanto la carta che troviamo in bagno. Quindi a volte bisogna stare un pochino attenti. Nei contratti è sempre bene magari andare a leggerli, andare a capire cosa si sta facendo e come si sta facendo. Sono diciamo una forma. Ovviamente un contratto per essere tale andrebbe registrato, quindi magari dovete sentire un avvocato, dovete sentire un notaio, dovete sentire meglio un commercialista. Però un contratto può essere anche una scrittura privata che si può fare tra persone in maniera abbastanza blanda, in maniera di fiducia, nella quale praticamente si scrivono i termini per i vari pagamenti e volendo per il lavoro. Ok? Quindi magari questo lavoro consiste nella realizzazione di cinturini, io faccio degli esempi che magari non rientrano nel mondo del 3D perché magari sono più facili da comprendere. Magari cinturini per orologi, ok? E devo fartene 40 nel tempo di due mesi, in due mesi io ti faccio 40 cinturini di orologi e devono avere tutti lo stesso identico colore. Quelli che non hanno quel determinato colore non vanno bene e quindi uno, poi ci saranno delle clausole, ci saranno delle varie tipologie di strumenti che si possono utilizzare per gestire meglio il rapporto anche con il cliente. Però un contratto può essere anche semplicemente una scrittura privata che va a definire una NDA. Una NDA è sostanzialmente un contratto di non concorrenza, di non divulgazione. Questo lo si fa spesso anche nel mondo degli effetti speciali. Io per lavorare qui ho firmato tre NDA diverse. Non vi posso dire con chi, perché nell'NDA c'è scritto che non posso dire con chi ho firmato l'NDA, però ho firmato tre NDA diverse le quali mi obbligano a non fare determinate cose, a non dire determinate cose. Perché? Perché potrebbe essere un danno non solo per l'azienda che magari ho per me. Ad esempio, mettiamo caso che io produco custodie per hard disk, per la Western Digital. Mettiamo caso che nel mio contratto c'è scritto che io non posso dire che faccio le custodie per la Western Digital. Va bene? E non posso neanche pubblicare le foto. Esce la pubblicità della cover, della custodia, su cui ho lavorato io su online per la Western Digital. Io prendo la foto, la metto sul mio profilo di Facebook e dico, ah, ottimo lavoro abbiamo fatto. Io posso essere citato dalla Western Digital o comunque lo studio, perché magari la Western Digital può andare dal mio capo e dire, guarda, mi stai facendo un danno, un danno di immagine, anche se minimo, anche se io l'ho fatto senza volerlo. Quindi, magari la Western Digital smetterà di lavorare con quell'azienda o con me. Di conseguenza, io non avendo più lavoro perché ho violato questa NDA, mi ritrovo a rifare le famose USB per i cani e i gattini. Capite bene che a volte ci sono degli effetti a catena che sono involontari e quindi sono sempre di più le società che si affidano alle NDA, anche stupide, anche per esempio di progetti, io ho fatto anche dei progetti gratuiti, ok, quindi hanno budget di movie, di film, di film, di fan movie, quindi di film autoprodotti o di corti autoprodotti. Ed è naturale che anche lì c'era chi voleva che io firmassi nel NDA per una questione di conformità. La firmi tranquillamente, poi quando sarà uno la mostra, non è un problema, basta poi parlarci con le persone. Parlare con le persone è la migliore chiave per riuscire in questo mondo ad avere un rapporto coerente e sano con esse. E poi c'è questa seconda parola, il preventivo. E il preventivo solitamente sono di, io li divido in tre parti, i preventivi, ok? C'è quello che magari viene richiesto da un mio amico, un mio conoscente, e quindi io posso rispondere tramite mail senza problemi, quindi ad esempio, Quanto mi costa realizzare la custodia dell'hard disk? 50 euro. Oppure uno un pochino più articolato, uno in cui c'è bisogno di definire all'interno di tutte le voci, che poi le voci sono magari, quello che viene fatto, la quantità per cui viene fatto. Per esempio, una volta ho dovuto fare un preventivo per una società che voleva fare un display per una macchina da caffè, voleva le simulazioni di come scendeva il caffè nelle tazzine, e mi aveva chiesto 60 simulazioni differenti da fare in due mesi, ok? 60 differenti di cui ognuno con tipologia diversa di caffè, perché in Italia poi abbiamo il caffè in un modo e l'altro in un altro. Ad ogni modo, il preventivo era composto da prezzo per simulazione, questo, quantità 60, aggiunta di tasse, quindi uno schema che raccorpava anche le tasse, prezzo finale. E volendo, in fondo, il prezzo, siccome magari 60 simulazioni, io non mi nascondo a dirvi che gli avevo chiesto circa 85.000 euro, gli ho detto, bene, però lo dividiamo in tre parti. All'interno del preventivo c'erano anche divisione primo saldo a conto, 25%, a metà lavoro il restante 50% e il restante 25% a fine lavoro, con, volendo, clausola di poterlo pagare a 60 giorni. Quindi, un preventivo un pochino più strutturato, che contiene i dati e contiene anche alcune informazioni basilari per poter guidare meglio il cliente. Questa potrebbe essere una tipologia. L'altra tipologia che io ho è più che altro l'offerta commerciale. L'offerta commerciale è un documento che, oltre ad avere un preventivo come quest'ultimo che vi ho descritto, ha anche tutta una descrizione del progetto che si andrà a fare. Quindi, ha tutta una descrizione di il progetto, partirà, sarà fatto tra persone con questi dati. Quindi, la società X e la società Y, è quasi un contratto, si impegnano a sviluppare questo progetto insieme. Di conseguenza, verrà realizzato questo determinato effetto, simulazione e tutta una serie di altre belle parole che vanno a descrivere il nostro oggetto. Questo è praticamente come si possono fare i preventivi. Ovviamente, in un preventivo viene sempre richiesto una parola che è allucinante, allucinante per chi fa i preventivi. Grazie.